Squadre che prendono posto sul terreno di gioco, facciamogli sentire il calore del pubblico romano, forza! Attenzione qui! Ha un solo uomo da battere! Portiere tranquillissimo qui! Cos'è questo silenzio? Fuori la voce, Roma! Mettono la freccia, 1-0! Match che ricomincia! All the way! Provano a ristabilire la parità! Portiere che ci arriva tranquillo! Si oppone da campione! Portiere che non deve fare troppa fatica! I'm in! I'm in! Yeah, 1-0! Un gol! Si riparte! Provano a rientrare in partita! Un minuto all'intervallo! Un minuto all'intervallo! Un minuto all'intervallo! Il andesco è stato un minuto all'intervallo! Ha un solo uomo da battere! E il fortiere dice di no! Che roba! Portiere tranquillissimo qui 30 secondi e suona la campanella Si faccia ridosfruttare Il match che ricomincia Come on, come on, come on Si lo pone da campione Cinque Cinque Quattro Tre Due Uno Partaggio che si fa Imbarazzante Termina il primo tempo Ho un'idea Facciamo chi fa più casino Si riparte Si libera bene Acchiappa il pallone senza troppi induci Cos'è questo silenzio? Fuori la voce, Roma Conviene che ci arriva tranquillo Un'idea 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 Scende! Stai! Muove Torrano Difese stanchine Oggi siamo 4 a 2 Squadre di nuovo in capo Hanno la partita in pugno E si vede Interviene Recupera palla Uno contro uno La gioca 60 secondi al fischio finale Cercano di portarsi a meno uno Per riaprirla nel finale Si libera con una finetta Tempo che sta per scadere Vedremo come sfrutteranno Questi 30 secondi finali Si la tratterà Un'altra straordinaria Partita che potrebbe riaprirsi nel finale I need some help back here 10 seconds 10 seconds 8 7 6 5 4 3 2 1 Game over Grazie Roma Ciao 2 7 1 1 2 2 1 3 2 2 3 3 2 2 3 3 4 3